Lo so che non faccio video da due mesi ma sono stato molto occupato Per esempio ieri sono stato tutto il giorno a inseguire uno scarrafone che si era incastrato nella mia finestra E l'ho ripreso per tutto il suo tragitto fino alla sua morte In questo periodo sono successe varie cose nella landa desolata dell'internet Cioè non è desolata, è la landa dell'internet e basta Una tra queste, la più importante, il mio fratimo procione di Space Jam è stato arrestato Space Jam 2 cancella il procione che incoraggia la cultura dello stupro Io non lo so, do cazzo andremo a finire Però questo è successo molto tempo fa, sicuramente mi ha molto colpito questo articolo, mi ha divertito Quindi volevo riproporlo anche a distanza di mesi Ma tra l'altro hanno desessualizzato Lola Bunny quindi non ci si potrà più fare le sighine Baba Boy Poi è successa un'altra cosa molto interessante Ovvero Erfaina ha creato diciamo uno scandalo Pedufischi, qualcuno direbbe pedufischi Pedufischi, pedufischi Ercat Colling È diventato il mio supereroe preferito perché non si sa come Ha portato tutto il mondo del web a parlare del catcalling E tutto grazie appunto a Dufischi A questo meme bellissimo che poi è diventato Afantastica Afantastica Solo che adesso è morto, siccome non ho fatto video non ho potuto sfruttare questo meme Quindi adesso rosico e lo userò in questo video Afantastica Comunque oggi non sono certo qui per parlare di Erfaina Ma bensì ho trovato una notizia bellissima per me Una notizia quasi poetica Cioè è stato veramente per piangere dall'emozione Amazon e in particolare Twitch Che ormai tutti conosciamo come un branco di simp Veramente che bandano la parola simp Solo perché li definisce Perché vogliono essere quelli inclusivi, quelli buoni Praticamente sono passati al lato scuro E hanno finalmente insultato una minoranza Baba Boy Allora comunque il post, cioè il tweet è stato rimosso Però ovviamente se carichi qualcosa sul web, su internet Non puoi sperare di cancellarlo per sempre Quindi l'ho ritrovato ovviamente E adesso ve lo leggerò Marzo è il mese storico delle donne Però dovete notare come è scritto donne Sembrerebbe un errore di battitura Che è scritto woman invece della A C'è la X In realtà questa parola è una sorta di asterisco O sva inglese Quindi praticamente è stata creata Perché all'interno della parola woman Quindi donne C'è men Quindi per non accostarsi proprio alla parola men Per non proprio allontanarsi completamente Hanno creato questa parola woman Womanxn Non so come pronunciarla E teoricamente è stato creato per includere Le donne trans E le persone non binarie Penso di non binary gender Quindi ovviamente è stata diciamo scritta Per lo stesso motivo per cui usano l'asterisco Nei post Ovvero per far finta di essere quelli buoni Quelli cool che seguono la moda Invece hanno ottenuto proprio l'effetto opposto Quindi hanno cancellato il post Per tutti gli insulti Adesso purtroppo i commenti non li ho ritrovati Però dopo un po' hanno caricato un altro tweet Mentre volevamo in origine usare la parola Per riconoscere l'avvenire del gender binary language Quindi la lingua Dopo aver sentito direttamente da voi Includendo i membri dell'LGBTQIA plus community Su Twitch Useremo lo spelling woman Andando avanti Come se bisognasse specificarlo Non volevano avere una parola diversa Perché in teoria dovranno essere tutti uguali E quindi per qualche motivo si sono incazzate E' poetica come cosa no? Io potrei farmi una sega in questo preciso istante Ah tra l'altro Se ci pensate Questa cosa getta anche un'altra luce Sulla questione degli asterischi Delle su va Ci dimostra che nonostante Una cosa sia creata per non offendere Un gruppo specifico di persone Quel gruppo specifico potrebbe comunque offendersi Quindi è una cosa senza senso Lo era già dall'inizio Però insomma E a proposito di asterischi Stavo scorrendo la pagina di Instagram E c'era un post di Prime Video Che vabbè Di solito postano i loro mimini del cazzo Con 20 commenti Questa volta invece Avevano postato un meme Però avevano usato l'asterisco E sotto nei commenti Si era generato un putiferio Cioè 300 commenti Solo per quell'asterisco Quindi per gente che diceva Avete rotto il cazzo con gli asterischi E invece altra gente che diceva Bravi che usate gli asterischi No? E quindi si è creato un dibattito di questo tipo Comunque in particolare Vi vorrei leggere una conversazione Sotto appunto al post di Prime Qualcuno scrive Ma sul serio vi dà così fastidio un asterisco? Ma almeno sapete perché si mette In pratica vi dà fastidio essere gentili E rispettare il genere di tutte le persone Perché di questo si tratta Non si tratta di questo Per voi è più facile pensare Che sia tutto una moda Invece di avere un briciolo di empatia L'empatia non c'entra un cazzo E sì è assolutamente una moda È una moda passeggera Tra l'altro che esiste solamente sui social Cioè non sentirete mai Uno per strada Che vi parla con gli asterischi Ovviamente Non succederà mai Scrive Lingua italiana maggiore di rispettare le persone Non capisco come si faccia a pensarla così Io non capisco come si faccia a pensarla al contrario Cioè non è che se tu ti offendi per una parola Vuol dire che bisogna cambiare tutta la lingua italiana Cioè non sei un fiocchettino di neve speciale Tutti dobbiamo fare la lingua italiana Quindi ti dovrai abituare Anche se tutti ti dà fastidio Senza l'asterisco È proprio la prova della vittoria Dell'irrazionalità sulla logica Contiene in sé tutto questo Politically correct estremo Che negli ultimi anni è dilagato Quindi ogni volta che lo sento Mi vengono in mente tipo i flash Del progione accusato di alimentare la cultura dello stupro Degli scacchi razzisti E di queste stronzatine qua Anche se mi fanno ridere Cioè la pronuncia dell'asterisco mi fa sempre ridere Tut Tut Mi ha fatto piacere di tornare a parlare A ruota libera Delle stronzate che mi passano per la testa E Ci vediamo tra qualche mese Avantossiga 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 Avantossiga